Nei pressi di via Colai Anni, proponiamo in vendita, all'interno di un piccolo contesto in comune, casa singola di circa 110 metri quadrati. Internamente è composta da, ingresso su ampio soggiorno. Camera da letto. Seconda camera da letto con annesso ripostiglio. Disimpegno che conduce ad un secondo ripostiglio e servizio completo con box doccia. Ed infine una comoda cucina abitabile con accesso al giardino. Infatti la casa dispone di circa 800 metri quadrati di spazio esterno pertinenziale, con doccia esterna, pozzo e frutteto. Il tutto recintato. Grazie. 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 Grazie.